Buongiorno, sono la dottoressa Latini Alessandra, fisioterapista, attualmente presto servizio presso lo Iov di Padova, quindi seguo patologie oncologiche. Io ho fatto parte per 25 anni del gruppo di lavoro dell'Università di Padova presso la riabilitazione ortopedica del professor Masiero. E lì ho avuto modo di utilizzare con un progetto questo Pronexibus Plus, trattando vari tipi di patologie e con grossissimi risultati a carico dei pazienti. Come specialità, oltre all'utilizzo di questa apparecchiatura che prevede il trattamento di tutte le patologie, seguo la riducazione posturale globale, seguo la terapia della deglutizione, come dicevo prima, tutte le patologie oncologiche, nello specifico i linfedemi su mastectomie e svuotamenti di sezioni ascellari e linfonodali inguinali, e cervicalgie, la riducazione dell'articolazione temporomandibolare. Devo dire che negli anni ho provato vari tipi di terapie fisiche, apparecchiature elettromedicali, i TECR, Laser, Vibra Plus, però il Pronexibus Plus ha una marcia comunque in più, soprattutto nel trattamento di patologie particolari, visto che ho seguito appunto i linfedemi, quindi pazienti oncologici, e ultimamente vedendo anche il trattamento toracico a livello di pazienti Covid. Come professionista dico che ci si può avvicinare benissimo anche all'inizio della carriera lavorativa a questo tipo di apparecchiatura, perché ha un utilizzo molto molto semplice, non è invasivo per quanto riguarda la sensazione che può dare al paziente. Quindi un buon lavoro e grazie a tutti. Grazie.